buonasera eccomi ritornata spero di non avere più grandi problemi di linea aspetto di vedere se arriva qualcuno iniziare a parlare e io vivo se c'è qualcuno in linea e mi può dire che mi vede che sta funzionando tutto sarai grata in quanto non non conosco questo programma per cui è la prima volta che lo utilizzo aspetto qualche minuto a vedere se si collega a qualcuno sempre a mezzo che io riesca a essere in linea si mi vedo ok però non vedi commenti il che adesso li vedo li vedo dal telefono dall'altra parte ok allora ci siamo buonasera a tutti e benvenuti ok siamo allora posso partire perché vedo che state arrivando non riesco a far tutto con un unico strumento però ce la posso fare allora benvenuti e ritrovati questa sera volevo fare una serata un po di riepilogo per quanto mi riguarda nel senso che la prima sera in cui ci siamo conosciuti e incontrati in qualche modo vi ho spiegato una parte della mia vita ma ci siamo fermati a ad un certo punto alla scoperta della medianità e poi non siamo più andati avanti quindi volevo in qualche modo riprendere il discorso da quel punto e agganciarmi anche un po al percorso che ho fatto perché l'argomento che ho deciso di affrontare questa sera in relazione anche a quanto sta accadendo per quanto riguarda la situazione così instabile così difficile che stiamo vivendo è proprio quello di dare degli spunti per collegare la mente e il corpo nel senso che molto spesso in questo periodo potremmo essere travolti da pensieri non proprio felici pensieri di preoccupazione di tristezza di frustrazione di rabbia e può essere difficile staccare la schiena cui insegnerò qualche trucchetto per eventualmente provare a farlo attraverso l'utilizzo del corpo per farvi comprendere come sono arrivata a trovare queste soluzioni in qualche modo prenderò proprio il percorso da dove l'ho interrotto e lo completerò spiegandovi le conclusioni a cui sono giunta. Allora quando scoprì la medianità fu per me molto travolgente anche la mia quotidianità subì un grosso tracollo nel senso che ebbi molti problemi dovetti gestire diverse situazioni anche proprio pratiche perché con la separazione poi persi il lavoro dovetti ricominciare insomma fu un periodo turbolento turbolento sebbene in qualche modo la consapevolezza di aver aperto un canale con qualcosa di superiore mi dava una serenità che non avevo mai assaporato e questo mi diede anche molta forza forza di accettazione di guardare avanti con maggiore fiducia. Diciamo che passai un buon due anni a utilizzare proprio questi canali per scrivere per indagare per cercare di comprendere meglio la natura umana gli avvenimenti che la travolgevano e quindi passai un periodo proprio di grande introspezione in cui decisi a un certo punto poi di cambiare la mia vita e di dare una nuova direzione che fosse dettata dal cuore e quindi dalla spinta a sviluppare e questa ricerca il mio percorso verso la consapevolezza e la comprensione scrissi molto scoprì che ero in contatto con dei maestri di luce che poi attraverso un altro canale che conobbi e a cui va tutta la mia gratitudine che purtroppo al momento non è più nel nostro mondo, è di Seferian, mi spiegò anche come riconoscere le energie sottili e mi aiutò a fare un percorso ancora più approfondito per quanto riguardava l'ascolto e la mia capacità di orientarmi in una dimensione più sottile. Fu un grande lavoro molto impegnativo da cui emersero tantissime canalizzazioni. Canalizzazioni mai però volte a indagare la quotidianità o a conoscere cosa sarebbe accaduto ma sempre molto rivolte a indagare la sofferenza dell'animo umano, il dolore, la morte e soprattutto come si poteva portare le conoscenze che questi maestri di luce mi stavano trasmettendo in una dimensione materiale affinché fossero di aiuto un po' per tutti nella gestione della quotidianità. Da questo primo passaggio, buonasera a tutti, intanto vi ringrazio di essere qui e continuo, da questo primo passaggio è poi nato un libro. In realtà quando mi dissero questi maestri proprio mi chiesero di pubblicare un volume che in qualche modo raccontasse questo percorso, le esperienze che avevo fatto, non lo vissi molto bene nel senso che sono una persona molto riservata, il percorso era un percorso solitario e il mettersi a nudo era molto faticoso. Infatti scrisse il libro raccogliendo inizialmente tutte le canalizzazioni cercando di dare un senso temporale, spaziale e un significato. E poi dissi ma dovrei averlo finito e lo sottoposi a un amico che è un lama buddista di cui sono molto amica e lui guardò questo libro e mi disse è troppo difficile, non va bene, ma d'altra parte mi disse proprio queste parole. Quando tu devi partecipare a una partita di calcio indossi le scarpe da calcio e la divisa, entri in campo esattamente attrezzata per poterti immergere nella partita. Questo libro è distaccato, non ci sei tutto dentro e così mi disse di rifarlo mettendomi in gioco. Ci impiegai due anni a riscriverlo perché fu un grande lavoro interiore, fu un grande lavoro interiore perché in qualche modo dovevo parlare di me e non era facile per una persona che non ama esporsi o manifestarsi. Poi dovevo in qualche modo parlare del mio percorso e dovetti fare i conti con le mie resistenze e ne avevo tantissime. Infatti fu un percorso che richiese un paio d'anni per essere esaurito e portato completamento. Ma poi ce la feci anche perché una volta che decisi di mettermi in un gioco mi rimboccai le maniche e iniziai a scrivere e ad andare proprio anche abbastanza veloce perché in fondo distrutta la diga che tratteneva tutte le mie emozioni, tutte le mie paure o le mie fragilità ho detto vabbè se dobbiamo giocare giochiamo e sentivo proprio nel profondo che quanto avevo ricevuto con questi insegnamenti era talmente grande e talmente bello che non potevo non esserne grata e questa gratitudine si esprimeva proprio nel nel dono nella condivisione e se mi costava fatica era un percorso un passaggio che dovevo comunque attraversare perché mi era stato richiesto questo libro ed è nato il primo volume che è il coraggio di ascoltarsi. Nel coraggio di ascoltarsi riunisco anche le mie esperienze perché ovviamente quando mi misi in gioco e decisi di condividere iniziare a farlo proprio attraverso dei gruppi di meditazione che era una è una pratica che mi appartiene da tantissimi anni e che mi era semplice trasmettere lo feci però in modo tipico perché lavorando con le persone la cosa che mi piace maggiormente è proprio avvicinarmi alle persone osservarle comprenderle e provo un grande stimolo nel supportarle nel lavoro verso la consapevolezza per cui avendo attraverso i maestri tantissimi strumenti un attimo che mi dicono fai partecipare aggiungi non so bene come funzioni ma non riesco a guardare video e tutto eh portate pazienza insomma lavorando con le persone con distacco come mi hanno insegnato i maestri è stato naturale osservare le dinamiche osservare le paure osserva i filtri che le persone mettevano nel lavoro ad esempio quando si fa meditazione si pensa spesso che si debba svuotare la mente in realtà non è propriamente corretto l'importante non è svuotare la mente o non pensare che è assolutamente difficile per noi occidentali quanto in non rimanere agganciati ai pensieri cioè se io mi focalizzo sul respiro ad esempio o in un modo tipicamente orientale osservando la fiamma della candela come tutti avrete sentito dire ecco che riesco se rimango focalizzato a lungo su quello che sto facendo ad ottenere uno stato di presenza e ad essere in meditazione questo stato di presenza si può raggiungere per dire anche lavanti piatti anche facendo una passeggiata se io riesco ad essere centrato esattamente in quello che sto facendo e vi racconto un aneddoto quella meditazione quando io iniziai a farla con questo lama buddista la facevo già da anni però lui mi insegnò appunto alla meditazione trascendentale buddista ed era incredibile perché ci faceva stare immobili nella stessa posizione anche per un paio d'ore e quindi se tu non sei in meditazione in uno stato di presenza dopo un po senti formicolio senti il desiderio di muoverti e man mano che affinavamo la tecnica lui prendeva due coperchi ci veniva dietro e sbam ci sparava a tutto spiano sbattendoli uno contro l'altro se tu eri meditazione lo sentivi il rumore ma non lasciavi andare e lui aveva la riprova che stavi lavorando bene in questo in quello che stavi facendo perché eri presente e ripresente in nella tua meditazione bene allora quando io propose alle persone di fare me di ovviamente mi accorsi che sicuramente era più facile se io la guidavo questa meditazione all'inizio me la proposero proprio i maestri questa questo modo di approcciarmi alla meditazione con le persone perché per me è molto semplice creare uno spazio all'interno però penso che sia una propensione naturale e quindi mi era difficile insegnarlo ma i maestri mi dissero prova a guidare la meditazione all'inizio mi diedero loro gli incipit su cui lavorare per cui io andavo in meditazione ricevevo le istruzioni e poi guidavo la meditazione mi accorsi che gli incipit che mi davano i maestri su cui poi lavorare con la meditazione con le persone in realtà andavano a toccare delle cose molto sensibili e spesso le persone se le permettevo loro di stare sedute comode si addormentavano e quando ci si addormenta e perché in qualche modo si fugge la situazione allora proposi nei gruppi di fare una meditazione in piedi in piedi è scomodo addormentarsi innanzitutto e poi è molto più efficace perché si sente il corpo e le meditazioni guidate che mi insegnano i maestri erano proprio un continuo collegamento e riferimento al corpo perché è vero che stavamo adottando un lavoro interiore però lo facevamo con un continuo rimando al sentire fisico perché ad esempio se toccavamo una paura una fragilità immediatamente il nostro corpo la rimandava e lavoravamo sullo scioglimento della tensione o del dolore che si veniva a creare questo ovviamente lo imparai facendo molta pratica e lavorando per tanti anni con le persone non fu immediato perché ovviamente era come se questi maestri mi prendessero per mano e mi accompagnassero e mi accompagnassero in un percorso che io dovevo in qualche modo aprire e quindi mi accorsi che un altro passaggio poteva essere anche agevolare le persone sciogliere queste tensioni non limitando la meditazione a una posizione statica ma permettendo anche il movimento noi sappiamo tutti che quando si crea un blocco o una stasi o quando siamo contratti siamo rigidi ma facendo movimento queste contratture si possono sciogliere scaldando il muscolo e migliorare e quindi imparai a proporre magari dei movimenti spontanei arrivai a proporre magari anche delle danze spontanee insomma architettavo delle soluzioni che potessero in qualche modo essere efficaci per aiutare le persone a lavorare sia interiormente che sia sul corpo perché le due cose vanno di pari passo e quindi se a volte risulta molto difficile lavorare sui pensieri e sulle convinzioni sulle giustificazioni mentali perché la nostra mente è molto efficace e se vogliamo non vedere qualcosa ci trova un sacco di giustificazioni affinché noi non la vediamo o non la facciamo e quindi dovevo girare l'ostacolo e oltretutto il corpo mi sembrò una via molto importante perché spesso per me era facile vedere paure blocchi però le persone non sempre le coglievano in se stessi però facendo un rimando molto pratico relativo al corpo loro non potevano negare il disagio che percepivano fisicamente nel loro corpo e quindi questo metodo mi sembrò funzionale però in qualche modo scoprì che c'era un altro ostacolo questo ostacolo lo percepì nelle sedute di meditazione approfondendo il lavoro ma lo percepì anche al colpo nei corsi di Qigong che è una ginnastica terapeutica che deriva dalla medicina tradizionale cinese che io ho studiato e che ho amato moltissimo e che tuttora amo moltissimo per il suo approccio olistico e sono dei movimenti forse avrete in mente quei cinesi che nei parchi fanno quei movimenti molto armonici simmetrici ecco il Qigong è quello ed è una ginnastica terapeutica per l'oriente che la adotta insieme all'agopuntura e al massaggio tuina fanno tutti parte della medicina tradizionale cinese da cui poi è derivato lo shatsu e altre tecniche forse più conosciute ebbene quando nell'associazione che avevo creato ospitai anche questi corsi di Qigong mi fu facile trovare conferma a quello che avevo già percepito cioè il fatto che era molto difficile per le persone percepire il loro corpo allora io avevo un bel lavoro da fare a insistere sull'ascolto del corpo ma sì se vi era questo collegamento interrotto difficilmente avrei ottenuto riscontro che tanto ricercavo e allora iniziai a fare degli esercizi proprio molto semplici di controllo il maestro di Qigong per cui lavorammo insieme e in collaborazione lui molto più preparato sul corpo io molto più preparata sulla parte interiore decidemmo di unire le forze per approfondire questo questo tema e proporre qualcosa che permettesse di ovviare al problema un esempio molto banale quando il maestro di Qigong chiedeva agli allievi di adottare la posizione iniziale che è una posizione molto semplice a piedi uniti braccia tese lungo il corpo rilassato testa sguardo dritto molto spesso le persone non univano i piedi o magari avevano le gambe leggermente aperte o le punte dei piedi una da una parte una dell'altra non ci facevano caso al che noi di comune accordo ripetevamo il comando e dicevamo a piedi uniti ci prepariamo a partire con la prima posizione e nuovamente ci rendevamo conto che non venivamo ascoltati al che decidemmo di mettere uno specchio enorme nello spazio in cui facevamo gli esercizi e provammo a mettere gli allievi di fronte al fatto che i piedi non erano uniti fu imbarazzante per loro perché immediatamente se ne resero conto però quando noi facciamo nostri dettomatismi se non manteniamo uno stato di presenza molto molto attento e consapevole immediatamente si scatenano inaspettatamente di nuovo e quindi vedevamo appunto le persone riunire i piedi mettersi in posizione e poco le neuroscienze ci danno conferme in questo perché il nostro corpo proprio per la sua grande capacità di adattamento se noi prendiamo un'abitudine sbagliata e la manteniamo per tanto tempo trova un nuovo equilibrio proprio su questa abitudine sbagliata per cui l'abitudine sbagliata diventa la normalità e noi non ce ne accorgiamo più ce la portiamo dietro e senza esserne consapevoli un po come il mal di schiena quando avete un po di fastidio alla schiena e non ci fate caso o lo sopportate alla fine si impara a convivere si impara a convivere col mal di stomaco si impara a convivere col mal di schiena si impara a convivere col mal di testa perché perché non si ha tempo di dedicarsi degli spazi di riposo non si ha tempo di dedicarsi attenzioni un massaggio o comunque di cambiare quello che scatena il disagio e quindi siamo un po così continuiamo ad accumulare accumuliamo e tratteniamo e tutto quanto accumuliamo e tratteniamo in qualche modo deve essere disgregato per arrivare di nuovo a prendere contatto con il corpo in uno stato di benessere psicofisico quindi se io ho adottato una postura non corretta e l'ho fatta mia per abitudine dovrò fare esattamente il percorso opposto e dovrò farlo con grande consapevolezza pazienza attenzione per poter disgregare lo schema però ce la posso fare perché se io manterrò per almeno sei mesi questa correzione continua della postura scorretta ho buone probabilità di tornare a ridimensionare il problema questo è però un problema quando iniziamo a fare certi lavori terapeutici o comunque di attenzione al corpo perché ovviamente quando io vado a sottoporre il mio corpo che ha tutti questi accumuli tutti questi questi disagi trattenuti e cerchi in qualche modo di scioglierlo e di portarli in equilibrio mi sembra che il lavoro che sto facendo sia assolutamente deleterio perché mi sento tutto acciaccato e allora la nostra mente che è fenomenale ci dice subito non fa per te devi assolutamente mollare il tiro perché alla fine questo lavoro non ti porta nessun bene guarda come stai se noi non abbiamo abbastanza intenzione coraggio e anche un forte intento facilmente molleremo il tiro e ci terremo il corpo così com'è congelato perché effettivamente se noi continuiamo ad accumulare disagi su disagi inevitabilmente il nostro corpo si tutelerà e smetterà di passarci segnali perché sarebbero troppi e quindi fin quando però non è un percorso infinito questo è perché quando esageriamo poi il nostro corpo si ribella inizialmente ci manda segnali poi ci manda segnali un po' più forti poi ci manda segnali ancora più forti se noi non lo ascoltiamo ci ferma ci ferma con una malattia importante o comunque trova il modo di attirare la nostra attenzione ecco che la nostra civiltà in qualche modo ci ha abituato ad un approccio al corpo in cui tendiamo a non vederlo più come un alleato ma come un ostacolo cioè non sto bene non posso fare qualcosa ecco adesso proprio oggi dovevo ammalarmi che avevo il tal incontro da portare a buon fine ci sono molte cose che noi sottovalutiamo del nostro corpo lo sottoponiamo a dei ritmi inadatti in quanto non rispettiamo magari il tempo del riposo non rispettiamo un'alimentazione sana mangiamo magari velocemente in fretta non le cose corrette insomma sottoponiamo il nostro corpo veramente a molti stress e quindi ho pensato che non si poteva lavorare interiormente se non c'erano le radici e le radici erano rappresentate dal corpo e il corpo doveva assolutamente tornare ad essere un alleato e così nel percorso di anni in cui ho elaborato tutta questa teoria che vi sto dicendo legata alla pratica e all'osservazione è nato il secondo volume che è il ritmo del corpo il ritmo del corpo nasce proprio perché ho considerato fondamentale tornare ad ascoltare il ritmo del nostro corpo e quindi un ritmo assolutamente naturale un ritmo che ha bisogno di tempi di spazi di riposo ha bisogno di attività fisica ha bisogno di attenzioni proprio come faremo con un buon amico a cui vogliamo bene in realtà molto spesso ci troviamo ad avere a che fare con molte persone che non hanno un buon rapporto con il loro corpo che si sentono a disagio un po' proprio per questa cultura che ci ha abituato a degli standard di bellezza a corrispondere a determinati schemi a determinati schemi che in qualche modo ci fanno sentire inadeguati ecco che allora dobbiamo svincolarci da questi schemi e trovare veramente nella natura della nostra umanità di nuovo un centro immaginate la natura io pensavo ad esempio ad un branco di animali che quando c'è l'elemento più fragile o più debole tipo le donne le femmine e i piccoli li mettono all'interno del branco affinché siano protetti quindi riversano tutte le loro attenzioni sugli elementi più fragili perché hanno bisogno di attenzione e di protezione lo stesso dovremmo fare noi il nostro organismo che purtroppo per la medicina occidentale è stato spezzettato in tanti pezzi diversi abbiamo il reparto neurologico il reparto cardiologico l'ortopedico che cura le ossa però abbiamo perso di vista l'insieme e l'insieme è funzionale solo se tutte le sue parti stanno bene quindi il ritmo del corpo ha proposto cinque esercizi molto semplici che lavorano innanzitutto sulla consapevolezza corporea e poi sulla simmetria e sulle articolazioni che spesso sono bloccate per non utilizzare i pali perché siamo sempre molto tesi molto rigidi e utilizziamo molto meno il corpo rispetto a una volta avendo molti lavori molto più statici e mentali e quindi attraverso degli esercizi molto semplici ho pensato di poter offrire uno strumento per ritrovare il proprio centro vi sembrerà banale però anche solo stare in piedi a piedi uniti con le braccia rilasciate lungo il corpo non è semplice eppure questa posizione così naturale e così banale nella sua semplicità è simbolo di una grande centratura di un grande equilibrio perché? perché la base d'appoggio è ristretta il baricentro del nostro corpo deve essere perfettamente centrato per mantenerci in equilibrio invece se voi provate a mettervi in piedi a piedi uniti con le braccia distese lungo il corpo vi renderete conto che non è semplice magari oscillate un po' ma probabilmente se stacchiamo i piedi è molto più facile infatti se noi portiamo i piedi all'apertura delle anche ci renderemo conto che il piano d'appoggio è più grande il baricentro ha più facilità a cadere centralmente e a donare al nostro corpo equilibrio quindi è banale però attraverso questo semplice esercizio una persona può valutare il proprio stato di centratura e di equilibrio adesso non dobbiamo diventare tutti equilibristi né stare come dei picchetti rigidi perché poi non bisogna farlo con rigidità bisogna essere spontanei e questo è molto diverso io non sto guardando i messaggi perché non riesco a fare tutto però allora hai parlato di blocchi mi dice ciò comenta e mi ha balenato la mente un ricordo di vent'anni fa mi disse di avere una sensibilità particolare che avevo un blocco ah il blocco sì il blocco allora praticamente il nostro corpo faccio una piccola digressione perché mi spiace non coinvolgervi e non rispondere alle domande quando parlo di blocco noi a capitale potremmo pensare a una parte che è dolorante oppure che è chiesa, rigida insomma immaginate che per la medicina cinese e questa visione per me è molto bella e molto evocativa il nostro corpo ha tutti questi canali che sono i canali dell'agocultura in cui scorre la nostra energia e la nostra energia è equilibrata finché può scorrere naturalmente in tutte le sue parti e ovviamente va a nutrire gli organi va a nutrire tutte le parti del corpo noi immaginiamo di avere la corrente è un po' una corrente quella che circola in noi un'energia vibrazionale noi immaginiamo che in un punto del nostro corpo in un'articolazione spesso cade in qualche modo non ci sia una presa funzionante e quindi la corrente non può scorrere oltre quello è un blocco il blocco ovviamente impedisce all'energia di circolare crea dei ristani cioè dei blocchi energetici sempre più grandi noi le potremmo chiamare infiammazioni prendiamo proprio un esempio pratico quando infiammiamo una parte ecco che questa parte si tende ci fa male è dolente noi cosa facciamo? naturalmente ci rigidiamo perché il dolore che noi percepiamo in qualche modo ci porta a contrarre la parte e a non muoverla perché muovendola percepiamo nuovamente il dolore i nostri recettori sensoriali inviano al nostro cervello immediatamente la spossa dicendo dolore, dolore, dolore blocca tutto ecco che il blocco crea un ulteriore blocco perché impedisce ulteriore movimento e quindi si crea una stasi e questa stasi permane nel corpo fisico ora però vi sviluppo un segreto queste stasi non sono solo nel corpo fisico perché nel corpo fisico ci arrivano magari dopo essere in sorte nei corpi più sottili immaginiamo molto praticamente un problema che ci ha veramente devastato qualcosa che non ci piaceva fare o una paura grande o qualcosa che un trauma che abbiamo vissuto se noi non l'abbiamo elaborato il carico emotivo non abbiamo elaborato quanto è avvenuto cercando di affrontare la situazione per lasciarla andare in qualche modo in qualche modo abbiamo trattenuto e questo trattenere crea degli addensamenti nei corpi sottili quando questi addensamenti permangono per tanto tempo nei corpi sottili alla fine arrivano nel corpo fisico e nel corpo fisico in qualche modo ci danno un segnale molto forte se noi siamo in grado di ascoltare e percepire il corpo diversa è la situazione se noi il corpo non lo sentiamo più o non siamo più in grado di ascoltarlo o lo abbiamo congelato immaginiamo di vivere una situazione molto frustrante sul lavoro di avere magari ansia da prestazione o un collega parecchio irritante e di imporci di andare al lavoro tutti i giorni sicuramente inizialmente avremo il mal di stomaco avremo tensioni avremo rigidità e il nostro corpo elabora 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 però arriviamo a casa prendiamo un po' di maniera e si annigeriamo cerchiamo di farcelo andare bene prendiamo una pastiglietta e l'indomani ricominciamo e poi ci arriva la gastrite e se continuiamo ci arriva l'ulcera e quindi il nostro corpo è un alleato proprio in questo senso perché non è che ci vuole fermare a tutti i costi ma ci sta dicendo guarda che con il tuo modo di fare tu vai in una direzione che è contraria al tuo benessere psicofisico e allora noi diremo ma noi non possiamo fare altrimenti qua mi fermerei non è vero che non possiamo fare altrimenti è vero che abbiamo paura di fare altrimenti non abbiamo il coraggio di farlo non abbiamo voglia di sbatterci per ricominciare non abbiamo e poi la paura è comunque razionale ed è un ostacolo grande a quello che noi vogliamo o possiamo fare perché io credo che il dono più grande che abbiamo ricevuto come uomini qui sulla terra sia la libertà la libertà di scelta e quindi sono convinta un po' per questa idea che ho trattato nel tempo che una scelta sia sempre possibile magari è una scelta scomoda è una scelta che ha un prezzo molto alto e non abbiamo voglia di pagarlo però esiste questa scelta e quindi vi chiedo se siete in una condizione di tensione di vicinità di ostacolo di blocco di osservare innanzitutto la parte del corpo che si è bloccata perché il corpo è molto semplice con le mani prendiamo le cose con le braccia facciamo le cose con le gambe camminiamo con il collo osserviamo immaginate la cervicale cos'è la cervicale? rimaniamo bloccati e il collo non si muove più è come se noi non volessimo vedere altro che quello che vogliamo vedere allora quando il mio collo si gira liberamente io posso ampliare la mia prospettiva guardare da tanti lati diversi lo stesso problema ma se io quel problema lì continuo di punta e a vederlo solo e sempre nello stesso modo inevitabilmente prima o poi il mio collo si blocca e mi dice forse dovresti aprire gli orizzonti forse dovresti cambiare prospettiva forse dovresti sciogliere questa rigidità che hai e che ti sta in qualche modo obbligando a vedere un'unica direzione perché di direzione ce ne sono anche altre se tu ti permetti di vederle il nostro corpo è semplice pensate a cosa al respiro io quando respiro sono in apertura perché permetto all'aria di entrare e quando io permetto qualcosa di entrare in me permetto anche qualcosa di uscire in me sono capace a cogliere e a lasciare andare quando io non respiro io sono in chiusura quando io mi incurvo tutto con le spalle è perché percepisco talmente tanti pesi che mi sto incurvando e vado in chiusura ma in chiusura non si risolvono i problemi in chiusura ci si sistema in una cantina cercando di fare il meno rumore possibile e di muoversi anche il meno possibile perché gli spazi sono ristretti per non sentire dolore ma non si risolvono le situazioni ci sono approcci positivi e approcci costruttivi non positivi è un termine che detto oggi con tutto questo covid potrebbe essere frainteso ci sono approcci costruttivi alla vita e approcci distruttivi nel momento in cui io faccio del mio blocco un blocco totale ecco che in qualche modo rinuncio alla vita rinuncio a quel movimento a quel movimento che è un movimento di trasformazione è un movimento vitale è un movimento che si dispiega nel tempo è un movimento che mi permette di crescere se io fossi bloccato rinuncio a una delle cose più belle su questa terra che è la crescita che è raggiungere quel centro all'interno di noi stessi che è luce che è che ci avvicina veramente perché la luce non è nient'altro che essere se stessi che realizzare se stessi che lasciare venire alla luce i nostri talenti i nostri doni è proprio quello il passaggio ovvio che è un passaggio faticoso perché noi siamo esseri molto resistenti sotto questo punto di vista e tutte le nostre resistenze costano fatica per essere disgregate però allo stesso modo è veramente meraviglioso il percorso perché io non posso dire che non ho faticato che non ho sofferto che non ho patito veramente tanto dolore però rifarei tutto esattamente dall'inizio perché poi quando arrivi c'è proprio una è qualcosa che ti colma da dentro e cambia prospettiva alle cose ti permette veramente di guardare alle cose con gratitudine con distacco anche nelle situazioni difficili e in questo momento nessuno di noi sta vivendo una situazione semplice e ti fa ti espande espande gli orizzonti espande il sentire espande la gioia e in qualche modo illumina il dolore quindi il mio consiglio è non rinunciare mai al movimento per nessun motivo al mondo insomma siamo ogni tanto mi perdo perché ho il cuore che trabocca e allora devo lasciarlo andare però il ritmo quindi avete compreso che era parte di questo percorso in cui avevo proposto questi esercizi molto simmetrici di rallentamento tutto ha un significato in questo libro perché tutto era teso proprio a riportare il movimento nel corpo un movimento naturale e spontaneo perché la spontaneità che ci siamo purtroppo persi per strada noi ormai abituati a queste immagini costruite a questi ruoli predefiniti dobbiamo recuperarla è un bene prezioso e quindi è importante ho pubblicato al ritmo convinta di aver fatto un grande lavoro però ho notato che ahimè le persone non avevano tutta questa voglia di muoversi e di ascoltarmi e allora ho pensato che dovevo inventarne un'altra dovevo inventarne un'altra perché comunque nel frattempo ho continuato a far parte di gruppi a lavorare su di me e quindi a lavorare anche con altre persone in particolar modo con molte donne e per lavorare sul femminile di rimando ovviamente poi è involto anche maschile perché sapete bene che ogni parte è nostra contempla sia una parte femminile che una maschile quindi l'equilibrio è anche quello nell'accoglienza di entrambe le parti e la realtà ci sta rimandando il grande disequilibrio che sta coinvolgendo in questo momento l'uomo sotto questo aspetto e quindi ho deciso di farlo attraverso una storia una storia che fosse specchio cioè ho detto se io vado dire e parlo di temi molto profondi e con precisione sicuramente lancio un messaggio preciso per addetti lavori però è un messaggio che poi magari non non arriva a compimento perché la lettura del libro non basta bisogna mettersi in gioco io nel libro ho allegato un cd con le musica dove poter fare le cose però non so ahimè quanti li hanno fatte io la buona volontà ce la metto ma poi effettivamente è la libera scelta di ognuno di noi a decidere se seguire o se accantonare il libro e dire no non fa per me e quindi ho scritto questo romanzo che tra altre cose è stato pubblicato proprio all'inizio ottobre che è questo lei ha una storia come tante in cui non ho assolutamente abbandonato i miei intenti da saggista e di ricercatrice però ho cercato di alleggerirli ho cercato di utilizzare una storia della quotidianità in cui ognuno di noi può in qualche modo ritrovarsi di utilizzare dei personaggi che possono essere specchio per ciascuno di noi uno specchio può rimandare qualcosa con cui io risuono oppure qualcosa che mi fastidisce terribilmente è efficientissimo in entrambi i casi perché mi sta mostrando una parte di me comunque che magari ho rifiutato se non lo sopporto e ho coinvolto in una serie di difficoltà in modo tale da lanciare un messaggio molto preciso di trasformazione di trasformazione che è proprio questo movimento a cui io sto attribuendo molta importanza e l'ho fatto proprio prendendo una protagonista femminile che si trova a vivere una vita che appartiene a ognuno di noi che si trova a vivere tante difficoltà tutte insieme perché la vita lo sappiamo bene non ci manda mai dolori uno per volta ma ci rimanda in blocco di solito dicono che la sfida ci vede benissimo e quindi attraverso il suo percorso interiore le sue riflessioni e anche le relazioni che questa persona attua durante la storia con gli altri personaggi e quindi che sono a loro volta degli specchi e quindi ci sono specchi maschili e specchi femminili specchi che le rimandano anche la sua presenza nel tempo ad esempio di quando era bambina o le rimandano una visione dell'anzianità ecco che proprio attraverso questo sguardo ho cercato di passare i messaggi che in qualche modo avevo raccolto negli altri due libri e con la mia esperienza attraverso la ricerca che avevo fatto il tutto proprio perché penso che sia importante ritornare a prendere consapevolezza di determinate esigenze del nostro corpo di determinate memorie che il nostro corpo tiene perché noi possiamo anche dimenticarci delle cose ma il nostro corpo se le ricorda benissimo e questi ricordi possono condizionarci possono condizionarci in modo tale da obbligarci attuare dei comportamenti anche inconsapevoli inconsci magari a fronte di uno stimolo che è andato a toccare una corda sensibile che ci appartiene e quindi ci trasforma in mostri aggressivi magari per delle banalità penso sia capitato più o meno a tutti di vivere una situazione del genere questa è un po' la storia la prossima volta magari do più spazio alle domande perché essendo la prima volta che uso BeLive non so bene come gestirla e se parlo non riesco a guardare se guardo non riesco a parlare e quindi devo diventare multitasking però questo ci tenevo a raccontarvi ora diamo un piccolo spazio veloce alla situazione che stiamo vivendo sicuramente la situazione che stiamo vivendo e che per molti soprattutto se vivono in regioni di lockdown è una situazione di chiusura chiusura che inevitabilmente si riverbera sul nostro corpo quindi allora quello è difficile essere in apertura in una situazione di chiusura ci vuole uno sforzo un intento preciso per poterlo fare allora io vi suggerisco di fare qualche semplice esercizio il primo è fondamentale è proprio quello del respiro prendete delle pause nel corso della giornata lo so che magari le giornate sono noiose siete sempre in casa però prendete degli spazi durante la giornata magari mettetevi proprio anche la sveglia durante qualche ogni tra quattro ore e dedicatevi cinque minuti di respiro profondo se non riuscite cinque minuti e sono troppi fatene trenta secondi l'importante è che riusciate ad ascoltarvi e respirare sarà difficile al inizio perché la mente farà di tutto per sviarvi e riportarvi nella situazione di chiusura quindi mettetevi in una posizione comoda cercate di aprire le spalle in modo da permettere alla cassa toracica di espandersi e poi provate a ispirare profondamente e a ispirare con pazienza non abbiate fretta fatelo magari visualizzare può essere un aiuto grande se riuscite a visualizzare perché almeno impegnate la mente la mente perché utilizzano il respiro o la fiamma della candida gli orientali perché la mente non può tollerare la noia perché vi dicono con tale pecole se vuoi dormire e non riesci a dormire perché a noi la mente e la mente stacca il tiro questo è vero però all'inizio la mente ci darà battaglia e quindi dovremo impegnarci molto fatelo finché riuscite sono dieci secondi fatelo per dieci secondi sono quindici l'intervallo dopo bravissimi ce l'abbiamo fatta abbiamo aumentato quindi prendetevi proprio il tempo e con calma dedicate il tempo giusto per voi perché ognuno di noi è unico e ha i propri tempi e i propri gradi di maturazione dedicate un intervallo in apertura a respirare perché tutto il vostro corpo si ossigena e sta molto meglio e quando c'è ossigeno anche i pensieri si fanno più leggeri e quindi andiamo a lavorare sul corpo in una dimensione di leggerezza che in questo periodo non guasta poi cercate di muoverlo lo so che in casa non si può fare tanto però anche cercate di sciogliervi se sentite magari tensione cercate anche solo di fare qualche movimento mettetevi una musica che vi piace sciogliete ma senza essere coordinati proprio lasciate andare permettete al vostro corpo di muovere l'energia perché in chiusura l'energia si ferma allora provate veramente a lavorare in questa direzione per donare una percezione di leggerezza al vostro corpo se ci sono tensioni e se diventate bravi nel respiro provate a respirare delle tensioni è molto efficace dopo vi prometto una cosa con calma guardo tutte le i post perché non riesco farlo in linea vedo vedo delle cose ma non riesco a farlo abbiate pazienza quindi utilizzate veramente cosa vi piace fare o fate un'attività fisica un'attività pratica magari lavorate la creta dipingete fate qualcosa di bello perché in un mondo di pensieri pesanti di rabbia di frustrazione la bellezza esiste se potete andare a fare una passeggiata nella natura fatela o anche solo uscine in giardino fatela ammirate i colori dell'autunno ritrovate il contatto con la bellezza e la bellezza può essere anche una coccola può essere anche un bagno caldo profumato fatevi le coccole e siate gentili lo so che con queste mascherine non possiamo neanche più sorridere però adottate gli occhi che ridono e siate gentili perché dobbiamo avere tanta pazienza e ci sono tante persone che vivono veramente una situazione drammatica tante persone che hanno paura e che fungono il problema abbiamo e quindi chi ha qualche strumento in più chi ha iniziato a lavorare su se stesso adotti proprio questi strumenti per aprire il cuore alla compassione e alla comprensione ma mantenete apertura e poi provate a trovare l'equilibrio magari a mettervi mentre respirate non vi dico coi piedi uniti non serve a fare le battaglie coi piedi uniti però trovate una posizione comoda e provate ad ascoltare il corpo se il peso è distribuito bene sentite pesare più da una parte rispetto all'altra iniziate veramente a prendere contatto col vostro corpo a sentire le sue esigenze e quindi il lockdown ci dà la possibilità di riposare un po' di più accogliamola abbiamo un sacco di stanchezza accumulata riposiamoci dedichiamo veramente al nostro corpo le attenzioni che quando siamo di fretta non riusciamo a dedicare e riempiamo lo sguardo di bellezza se possiamo facciamo cose belle osserviamo cose belle e respiriamo tanto io vi ringrazio per essere stati con me questa sera avete domande o vorrete scrivermi qualcosa io sarò lieta di rispondervi abbiate pazienza ma con la tecnologia non sono forte e quindi è una mia fragilità la mia debolezza mi piace parlare però non riesco a fare le cose contemporaneamente vi ringrazio vi auguro una buona serata nella luce e nella bellezza della spontaneità e del movimento e della trasformazione e vedrete che riusciremo a trasformare anche questa situazione così difficile in crescita e maturazione per l'uomo ce la possiamo fare grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti